gentili telespettatori buona giornata gas prom chiude di nuovo il condotto nord stream e schizza il prezzo del gas in alto dicono che sarà la solita manutenzione che si fermerà per qualche giorno ma probabilmente è fatto apposta è una strategia per per creare dei problemi appunto sulle forniture del gas in europa è una strategia una tecnica l'annuncio di gas prom di nuovo stop per manutenzione dal 31 agosto il 2 settembre fa impennare il prezzo del gas che segna anche oggi un nuovo record in chiusura delle contrattazioni al ttf di amsterdam la motivazione fornita dal colosso del gas russo è la necessità di una manutenzione ad un compressore ma sullo sfondo si intravede una diatriba sull'energia scaturita dalla crisi internazionale tramite il nord stream la russia rifornisce l'europa di gas naturale elemento centrale nella produzione di energia elettrica per molti paesi continentali la nuova chiusura dopo quella legata alla manutenzione di una turbina fatta riparare in canada ed ora ferma in germania in attesa che si sblocchi l'impasse burocratica per poterla far tornare al suo posto comporterà un'ulteriore interruzione delle forniture di gas in europa attualmente l'impianto già funziona solo al 20 per cento della sua capacità con gas prom che nelle scorse settimane aveva avvertito della necessità di riparare gli altri compressori dopo l'annuncio del nuovo stop il prezzo del gas al ttf il mercato di riferimento per l'europa è schizzato fino a 261 euro per megawatt ora per poi chiudere a 244,5 polverizzando subito il record di fine contrattazioni assegnato ieri a 241 con le previsioni sui contratti per i prossimi mesi con un prezzo superiore a 260 euro un costo difficilmente sostenibile per alcune filiere produttive europee e per le famiglie al netto degli aiuti introdotti da diversi governi con la generazione dell'iva a questo punto l'europa cerca di rendersi maggiormente indipendente dalle forniture russe da dieci giorni c'è il programma di autoriduzione del consumo del gas del 15 per cento concordato dal consiglio europeo per l'italia è stata stabilita una riduzione volontaria del 7 per cento perché ancora è un qualcosa di volontario che potrebbe diventare obbligatorio se le cose dovessero diventare più serie ma se nel taglio l'europa si è dimostrata compatta non si può dire lo stesso sulla parte fiscale con la proroga decisa dal governo di mario draghi dello sconto sulle bollette anche al terzo trimestre dell'anno la liquota del gas al 5 per cento invece che al 22 compirà 12 mesi è la più bassa in europa assieme all'italia procedono in questa direzione tra gli altri anche croazia lituania malta cipro romania slovenia ungheria dove si è registrato il taglio più corposo visto che la liquota normalmente era la più evata d'europa 27 per cento poco più su al 5,5 per cento troviamo la francia che normalmente aveva il 20 per cento la svezia abbassato al 6 per cento dal 25 per cento che aveva e il portogallo l'abbassa al 6 per cento aveva il 23 per cento e così fanno anche belgio e grecia dal 23 per cento al 6 per cento la germania invece ha annunciato che abbasserà l'iva sul gas al 7 per cento per aiutare i consumatori intanto io vi racconto di altre notizie ad esempio i titoli di stato oggi superano il 4 per cento quindi conviene di più oggi investire i soldi e prendere il 4 per cento di interessi che comprare una casa e affittarla naturalmente nel comprare la casa oltre l'affitto c'è la rivalutazione dell'immobile quindi non bisogna contare solo quanto prendi d'affitto ma devi poi dal quanto prendi d'affitto devi toglierci le tasse sulla casa devi toglierci la manutenzione della casa devi toglierci che se la casa è sfitta hai una mancata entrata e poi hai le spese condominali quando la casa è sfitta hai le bollette magari che hanno un costo fisso anche se la casa è chiusa quindi avere una casa da affittare tenete presente che la casa non puoi considerare non si può considerare di affittarla sempre 12 mesi all'anno bisogna fare un calcolo più basso ecco con i titoli di stato che superano il 4 per cento netto che ti arriva come interesse su una casa che costa 200 mila euro un 4 per cento se li investite in bot comincia a diventare 8 mila euro certo bisogna fare i conti con l'inflazione perché se voi investite 200 mila euro in bot quel 4 per cento non recupera l'inflazione con un'inflazione così alta insomma il capitale va a perdere valore mentre la casa magari non prendete il 4 per cento però si rivaluta di anno in anno da sola si dovrebbe rivalutare perché anche in questo caso bisogna guardare dov'è la casa è in una zona che si rivaluta è una zona che si sta svalutando per diversi fattori quindi anche qui molti dicono in maniera molto semplicistica beh con i titoli di stato così conviene non affittare non comprare per affittare una casa ma investirli in titoli di stato bisogna valutare bene scrivere su un foglio i pro e i contro e capire se si può fare perché poi dell'affitto voi ci dovete pagare le tasse e ci dovete pagare il commercialista insomma quanto rimane netto di un affitto di una casa quanto si rivaluta questa casa negli anni ecco bisogna valutare tutte queste cose pertanto io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti o meglio questo è l'ultimo video di oggi ci vediamo poi direttamente domani io vi ringrazio per avermi seguito per seguirmi costantemente il canale ha quasi raggiunto i 200 milioni di visualizzazioni perché adesso vi dico quanto siamo in questo momento siamo perché le visualizzazioni le fate voi 199.972.205 visite quindi mancano oggi diciamo c'è il raggiungimento bisogna vedere quando aggiornano i dati oggi c'è il raggiungimento dei 200 milioni di visualizzazioni che veramente molto pochi hanno nell'ambito delle dei commenti e della politica pertanto sono contento e contento che voi lo guardiate il canale grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata